Suburra è stato l'inizio di tutto, perché per me Suburra non vuol dire soltanto la serie, vuol dire anche il film. I Cattleya e Stefano Solli sono state le prime persone a credere in un ragazzo di 28 anni che era 15 anni che provava a fare questo mestiere senza riuscirci. Quindi quello è stato l'inizio, è stata la mia grande opportunità e quando vedo scritto Suburra la seconda serie io ho sempre un pensiero molto bello, molto felice, ma molto nostalgico nel senso che all'interno di questa cosa c'è un percorso di durante anni ormai, quindi prima il film, poi la prima serie, adesso la seconda serie. È stato fondamentale perché mi ha permesso, questo mestiere è molto complesso, ma soprattutto in questo paese, un paese dove ci sono poche cose da fare e ancora meno interessanti all'interno di queste poche e quindi bisogna essere molto fortunati ad avere l'opportunità di poter raccontare qualcosa, di poter dimostrare qualcosa. Io questa opportunità ce l'ho avuta, ce l'ho avuta da persone che mi hanno fatto sentire al sicuro dal primo momento, semplicemente credendo in me. C'è un ricambio di cose belle in questo paese, in questo momento, che dipende moltissimo da quello che diceva prima anche Riccardo, da questa possibilità di globalizzazione dei contenuti che c'è in questo momento. Per esempio, io penso, io comincio a fare questo mestiere avevo 18 anni, era il 2006, non c'era molta possibilità di fare delle cose, la protagonista, lavorano sempre gli stessi dieci attori. Adesso, grazie a queste nuove entità, questa possibilità c'è, viva, esiste e quindi non c'è più questo legame forte a dover fare qualcosa e affidarlo a qualcuno per avere la sicurezza di avere un feedback su cui fanno le cose, perché bisogna fare con le persone che le sanno fare bene e qui le cose che sappiamo fare tutti è molto bene, secondo me.